Perché un paio d'anni mi sono ritirato per considerare, vedere, leggere, insomma ogni tanto bisogna farle queste cose. Assolutamente, poi c'è stata la pandemia per cui eravamo anche... C'è stata la pandemia e quindi si è prolungata e poi Asia mi ha trovato questo copione, questo occhiali neri. L'ha trovato in un cassetto dove io l'avevo buttato perché il produttore che doveva farlo aveva fatto una catastrofe, era fallito, un macello. Uno dei tanti. E allora non si fa più. E' un film degli anni 90. Ma tu come l'hai trovato? Io l'ho trovato perché cercavo fra le carte mentre scrivevo la mia autobiografia. Sono andata da papà a cercare un po' ricordi, foto, a parlare, a ricordarci insieme. E l'ho trovato e me ne sono ricordata perché comunque era un film che aveva scritto negli anni 90, molto potente, poi non si era fatto e secondo me l'hai voluto rimuovere perché è sempre un dolore poi quando devi fare un film e non lo fai. Quindi l'aveva un po' rimosso, io invece no. E in effetti il copione reggeva, era potentissimo, poi ho sentito dei coproduttori francesi che si sono innamorati del progetto. Si sono messi d'accordo con le produttrici italiane. Questo film l'hai fatto grazie ad Asia allora, in tutte e per tutti. Concita De Gregorio e Laurentina Guidotti. Laurentina Guidotti, Concita Ioldi. Scusate, Concita Gregorio è una giornalista. Vabbè, sai che sapeva Concita. Va bene, non imponere, Concita. Ma tanto, ti posso dire, chi è sta Concita? È la produttrice, papà vuole essere gentile. È la produttrice. È la produttrice. Sì, è la produttrice. Ma va bene, ce n'è anche un'altra oltre? No, sono io associata. Ma hai messo i tuoi soldi anche? Ma che noi produttori di oggi, chi mette i soldi? Ah, chi li mette? Nessuno. Le banche. Le banche mettono i soldi. Le banche, le regioni. E siete soddisfatti di questo film? Sì, è bellissimo. Siamo andati a Berlino. Ma che meraviglia.